Per la terza domenica consecutiva la statale 614 che conduce al comprensorio scistico della Maielletta è stata chiusa al traffico in località Pretoro, oltre che dal versante pescarese di Serra Monacesca, per sovraffollamento dalle 10 fino alle 12.30 del mattino. E se da una parte c'è da essere soddisfatti dell'affluenza, dall'altra bisogna procedere per creare nuovi parcheggi e sbloccare il progetto finanziato dal Masterplan per un importo complessivo di oltre 20 milioni che prevede la realizzazione del comprensorio unico della Maiella. Una sollecitazione affinché la Regione appalti i lavori di valorizzazione turistica delle stazioni invernali di Passo Lanciano, la Maielletta, è stata lanciata ieri dal Presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, nel corso di un incontro che si è svolto a Chieti alla presenza dei sindaci di alcuni paesi del comprensorio, Pretoro, Letto Manoppello, Serra Monacesca e Rocca Morice. Vogliamo capire, in questo caso dalla Regione Abruzzo, quali sono i tempi. Noi siamo a disposizione, noi sindaci ci mettiamo a piena disposizione, come abbiamo già fatto in passato e come lo riproponiamo di farlo. Però, ecco, vogliamo avere concretezza. Nel pacchetto degli interventi Masterplan sono presenti anche tre parcheggi di prossimità, di cui il più grande è su Pretoro e l'altro su Serra Monacesca e su Letto Manoppello, che assumono ovviamente priorità e importanza fondamentale. Abbiamo visto il congestionamento che c'è stato a livello di viabilità e di parcheggi negli ultimi fini settimane, ci dispiace dover dare un'immagine sgradevole al turista, però in emergenza quando si arriva a saturazione della ricettività dei parcheggi diventa indispensabile per garantire sicurezza e incolumità e soprattutto il passaggio dei mezzi di soccorso all'utenza. Senatore, dopo questi ultimi weekend in cui la maialetta è stata letteralmente presa d'assalto con tutte le difficoltà della situazione, le gare d'appalto potrebbero costituire una risoluzione del problema? Stiamo parlando anche del Masterplan? Assolutamente sì, ci sono 22 milioni e 800 mila euro che attendono di essere appaltati per infrastrutturare Passo Lanciano, per renderla comoda, accogliente, funzionante, che non va in tilt con le moltitudini delle migliaia di persone che vogliono andare giustamente lì, una montagna a portata di casa, a portata di porta. Perché non si appalta? Qual è la quota di paura che si sta impossessando di queste risorse e degli ostacoli contro Passo Lanciano? Oggi spiegheremo che quelle risorse vanno appaltate subito, altrimenti i prezzi delle voci economiche ridurranno la capacità realizzativa di quell'importante finanziamento.